Nuova vita per i mercati comunali coperti di Milano? Il Comune punta infatti a trasformare e rinnovare le strutture nei diversi quartieri della città perché diventano luoghi di aggregazione e socialità, oltre che di vendita. Tra i provvedimenti presi dalla Giunta di Palazzo Marino figura l'individuazione delle linee guida per l'assegnazione a soggetti privati della gestione dei mercati coperti di Wagner, Morsenchi e Zara con contratti che dureranno 20 anni. Saranno poi stanziati 120.000 euro per la realizzazione di progetti di animazione culturale e sociale all'interno dei mercati coperti, in particolare di quelli a gestione tradizionale ubicate negli ambiti esterni alla circonvallazione 90-91. Secondo il Sindaco Beppe Sala c'è la necessità di modernizzare le regole per poi diventare questi luoghi sempre più di aggregazione. Il nuovo corso della valorizzazione dei mercati coperti comunali soddisfa anche la Conf Commercio di Milano che attraverso il suo segretario generale Marco Barbieri ha sottolineato come il fatto di lanciare l'iniziativa a partire da un mercato periferico è un grande segnale, un messaggio importante per la città. Mentre per Sergio Monfrini, presidente di Asso Food, gli operatori commerciali del settore sono riusciti a far passare le loro esigenze all'amministrazione. Oltre a poter offrire i loro prodotti, si impegneranno per accompagnare l'evoluzione dei mercati coperti e garantire più servizi con attività anche culturali e aggregative, valorizzando così il ruolo di prestigio sociale dei mercati coperti nei quartieri milanesi.